Nella deviazione elettromagnetica il principio è analogo, è affidato a due bobine che in assenza di tensione non producono campo magnetico e quindi il raggio prosegue la sua corsa indisturbato, viceversa con una tensione applicata si crea un campo magnetico e la deviazione di questo raggio sarà proporzionale all'intensità del campo magnetico e inversamente proporzionale al quadrato della tensione dianodica utilizzata. Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre prima di iniziare un saluto a 5 nuovi sostenitori del programma Patreon. Ciao e grazie a Mauro Iso, Mvvblog Marco Valleggi, Piero Di Steff, Luca Sim, Gabriele Sca e infine Michele De Silva, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere al Nerd Show di Bologna insieme a suo figlio Alessandro hanno realizzato un canale YouTube secondo me fatto molto bene con tanti contenuti di domotica, vi lascio il link in descrizione per chi fosse interessato. Veniamo al video di questa sera. Innanzitutto un piccolo aggiornamento. Come vedete ho un tutore, quindi il gesso è stato sostituito con questo che è bloccato a 90 gradi. Mi limita ovviamente la mobilità, però le mani le ho libere. Il video di questa sera quindi sarà un pochino più teorico perché ci servirà anche per i prossimi video che vedremo in ambito valvole. Infatti in passato diverse volte abbiamo toccato riparazioni e comunque temi che riguardano il segnale televisivo. Quindi il video di questa sera cerca di creare una pillola abbastanza condensata con tutta la teoria che sta dietro alla costruzione di un segnale televisivo e degli apparati che servono per acquisirlo, costruirlo, trasmetterlo e riprodurlo. E quindi buona visione! Ho deciso di realizzare questo video perché ritengo il sistema della televisione qualcosa di molto completo e un condensato di tutta la teoria del segnale, in questo caso con trattamento analogico, che ci sarà utile in molte altre occasioni. Difatti la riproduzione di immagini in rapida sequenza a distanza è un problema decisamente complesso che è stato risolto brillantemente. Come linea guida utilizzerò il corso di televisione che è una serie di dispense data 1961 autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e aveva lo scopo proprio di creare un corso per diventare il riparatore televisivo. L'uscita avveniva ogni dieci giorni e la casa editrice il rostro Milano. Ora si trovano liberamente in rete e vi consiglio la lettura perché sono fatte veramente bene. In generale possiamo dire che il sistema televisivo ha lo scopo di catturare delle scene in movimento e portarle in visione a un sistema di riproduzione. Possiamo scomporlo in tre blocchi principali. Un primo blocco di analisi che dovrà convertire la luce di queste scene in segnali elettrici. Un blocco di trasmissione che avrà il compito di trasferire questi segnali elettrici a distanza e questo può avvenire con diversi mezzi quindi cavi ma ovviamente etere che è il caso che guarderemo questa sera. E poi un sistema di riproduzione che è il vero e proprio televisore quindi un oggetto che captando i segnali in antenna si è in grado di riprodurre fedelmente quanto acquisito alla sorgente. Il miglior sistema televisivo che conosciamo è quello offerto dal nostro corpo umano che riesce a svolgere queste funzioni tramite degli organi molto sofisticati. Gli occhi in particolare riescono a catturare una sequenza di immagini trasferendola al nostro cervello con dei segnali in modalità parallela. Quindi abbiamo circa 500.000 fibre e collegamenti che portano le variazioni di luminosità, i colori e tutto quello che caratterizza un'immagine direttamente al nostro cervello. L'uomo ha cercato di copiare questo sistema ma si è reso conto subito di un limite. avere a disposizione tanto parallelismo in termini di risorse hardware e software è qualcosa di molto complicato e quindi si è passati ad un sistema sequenziale ossia la scena viene in realtà scansionata, analizzata e vedremo dopo con un pennello elettronico e scomposta in elementi di base i quali vengono messi in sequenza e trasmessi su un canale che potremmo dire seriale ossia il segnale che viene trasmesso contiene la sequenza di quanto è stato scansionato dalla scena. La prima cosa che dobbiamo fare è tradurre questi impulsi luminosi di una scena in segnali elettrici e per farlo utilizzeremo dei trasduttori, delle fotocelle che in base alla quantità di luce che le investe produrranno un segnale elettrico proporzionale. Supponiamo ad esempio di voler catturare una scena in cui c'è una riga nera in mezzo e poi solo bianco qua parliamo ovviamente di un segnale solo bianco e nero e supponiamo che il nostro elemento di analisi sia un pennello che scansiona l'immagine in modo da cominciare con una riga, andare alla riga seguente e così via seguendo tutta la scena. Se cerchiamo di riprodurre il segnale che viene tradotto dai nostri trasduttori otterremo una cosa del genere ossia un livello di ampiezza del segnale elettrico che diremo che è massimo sul bianco ed è minimo sul nero ad esempio e siccome la riga ha uguali dimensioni verticali ad ogni passaggio del nostro elemento di analisi avremo un andamento di questo tipo cioè abbiamo bianco, poi viene attraversato il nero quindi si va a questo livello e poi di nuovo bianco e questa è la prima riga e si ricomincia così per tutte le righe della nostra scena dunque il primo passaggio è la creazione di un segnale elettrico che rappresenti fedelmente le variazioni di luminosità che vengono a presentarsi di fronte all'elemento di analisi per stabilire la velocità con cui scansionare l'immagine dobbiamo tenere presente come è fatto l'occhio umano sappiamo infatti che l'occhio umano ha una sorta di persistenza dell'immagine nella retina ossia non può vedere immagini troppo veloci sappiamo ad esempio che se l'occhio umano ha investito da luce l'immagine rimane sulla retina per un certo tempo più di cento anni fa Talbot scoprì un legame fra la sensibilità che ha l'occhio umano rispetto al tempo di applicazione di un certo stimolo e constatò che a seconda della luminosità quindi della quantità di luce con cui una scena è illuminata questo tempo può essere variabile quindi se un fascio luminoso è interrotto oltre un certo numero di volte possiamo assumere che la retina lo vede come continuo però esiste anche il problema dello sfarfallio ossia questa rapida interruzione di luce se non avviene troppo velocemente può dare appunto questo fastidio di sfarfallio ad esempio nel cinema i fotogrammi avvengono alla velocità di 25 al secondo e questo sarebbe un problema ecco che allora con il trucco dell'otturatore che viene azionato anche durante la scena si raddoppia questa frequenza e quindi ci sono di fatto 50 interruzioni al secondo il numero 50 è un numero buono per quello che riguarda la persistenza sulla retina e poi non dà problemi di sfarfallio la scena da analizzare quindi viene scansionata da un pennello elettronico che vedremo dopo essere costituito da una valvola che è proprio un raggio di elettroni che viene fatto deviare dall'angolo in alto a sinistra della nostra scena fino all'angolo in basso a destra in pratica vengono percorse delle righe e quindi vedete questi tratti blu in cui il pennello scansiona proprio l'immagine come abbiamo visto prima con questo segnale e poi ovviamente deve tornare indietro e quindi abbiamo questi movimenti neri che hanno una pendenza leggermente diversa quindi l'elemento attivo di scansione è la linea blu invece quando il pennello torna indietro non acquisisce nulla ma semplicemente si deve muovere velocemente per ricominciare con la riga seguente una scena è completamente acquisita quando sono state spazzolate tutte le righe e questa cosa abbiamo detto che avviene 25 volte al secondo ma se questo fosse vero avremmo il problema dello sfarfallio perché a questa frequenza l'occhio percepirebbe queste interruzioni come un fastidioso sfarfallio allora ci sono due soluzioni o una scansione progressiva cioè viene aumentato il numero di immagini al secondo e quindi ad esempio invece di 25 si potrebbero fare 50 immagini al secondo oppure viene adottata la tecnica interlacciata allora la prima soluzione del raddoppio delle immagini capite che implica un raddoppio della banda utile cioè il nostro segnale dovrebbe variare molto più velocemente nell'unità di tempo e quindi richiederebbe uno spazio in frequenza molto elevato allora si adotta questa tecnica interlacciata per la quale si ha prima una scansione delle righe dispari e quindi il pennello elettronico ad esempio fa la prima, la terza, la quinta eccetera arrivato alla fine fa la scansione delle righe pari e quindi 2, 4, 6 eccetera quindi questa modalità è molto furba perché le immagini sono sempre 25 al secondo ma siccome abbiamo questa scansione interlacciata pari dispari i quadri che vengono portati all'occhio umano sono 50 e quindi sparisce l'effetto di sfarfallio vediamo ora quanta banda di frequenza è necessaria per trasmettere un segnale video accettabile partiamo da una considerazione di questo tipo con un'immagine che sia una scacchiera cioè che abbia un'alternanza di quadratini bianchi e neri in modo il più veloce possibile questa è l'immagine che da trasmettere richiede la massima frequenza perché abbiamo una variazione molto frequente appunto dei due estremi di luminosità bianco e nero la formula di calcolo della frequenza video è data da un mezzo n al quadrato dove n è il numero di righe avendo supposto un rapporto di dimensioni cartesiane fra l'asse delle x e l'asse delle y pari a 4 terzi il rapporto 4 terzi che è presente nello standard italiano con quadrati di uguale dimensione una frequenza fm di immagini di 25 immagini al secondo rapporto appunto 4 terzi e il cosiddetto coefficienti di kel che tiene conto di particolari approssimazioni facendo una semplificazione possiamo dire che una buona immagine deve contenere un numero di elementi abbastanza elevato abbiamo circa 200.000 elementi che sono presenti in un'immagine che vengono trasmesse 25 volte al secondo quindi la frequenza del segnale video intuiamo già che è dell'ordine dei 5 MHz 200.000 elementi per 25 immagini al secondo nello standard italiano questi elementi diventano 500.000 e poi in realtà sono trasmessi 400.000 perché i bordi laterali e superiori e inferiori non vengono trasmessi e inoltre abbiamo un'occupazione di banda che è fatta in modo che si abbia un po' di risparmio selezionando infatti una frequenza portante radio attorno alla quale dobbiamo avere i 5 MHz ipotetici in alto e in basso normalmente si applica la soppressione parziale della parte inferiore di banda tanto sappiamo che la nostra informazione dell'immagine è contenuta in una banda laterale ossia con una banda laterale siamo comunque in grado di ricostruire l'informazione quindi di fatto avremo una modulazione AM con la banda laterale parzialmente soppressa con un'occupazione di banda fatta in questa maniera la modulazione AM quindi di ampiezza impiega una frequenza portante che possa essere trasmessa via radio ad altissima frequenza e a questo scopo sono stati identificati dei canali attorno ai quali allocare questa occupazione di banda qua ho riportato per cenno storico i primi canali televisivi impiegati il canale 0A aveva un'occupazione di banda di 7 MHz quindi da 52,5 a 59,5 MHz canale B fino al canale H come vedete occupano gradualmente porzioni dello spettro qui vicino ci avviciniamo alla radio FM fino ad ora non abbiamo parlato della informazione audio che comunque è contenuta in questa banda abbiamo visto che il segnale televisivo per essere trasmesso richiede una banda larga proprio perché ci sono tanti elementi da scansionare in tante righe ma questo non basta perché l'immagine per essere riprodotta fedelmente dal ricevitore deve avere un sincronismo fra i due sistemi quello di scansione e quello di riproduzione sono due pennelli elettronici che si devono muovere perfettamente in sincronismo altrimenti capite che un'immagine catturata da questo elemento potrebbe essere deformata da quest'altro risultando in un'immagine non corretta dunque i movimenti di questo pennello che avvengono in asse orizzontale e in asse verticale sono animati da degli impulsi cosiddetti impulsi di sincronismo ossia abbiamo detto che quando viene effettuata una scansione il pennello deve ritornare indietro e in questa fase non deve essere trasmesso nessun segnale perché la riga di ritorno sarebbe fastidiosa da vedere quindi abbiamo che a ogni fine riga viene prodotto un impulso di sincronismo orizzontale che corrisponde al cosiddetto segnale di blanking cioè viene spento il pennello quindi scansione quindi scansione impulsino spegnimento di nuovo riga impulso di spegnimento e così via quindi il sistema di trasmissione acquisizione oltre a il segnale video che rappresenta la luminosità di ogni singolo elemento introduce degli impulsi quelli di sincronismo orizzontale a fine riga e quelli di sincronismo verticale a fine quadro inoltre esistono degli altri impulsi di sincronismo cosiddetti di equalizzazione per far sì che il sistema interlacciato sia perfettamente allineato infatti abbiamo detto che le righe dispari si devono incastrare perfettamente con le righe pari ecco che a questo scopo sono introdotti degli altri impulsi di sincronismo detti di equalizzazione quindi il segnale che viene a essere trasmesso sul canale si compone del segnale video e di queste tre tipologie di impulsi diamo uno sguardo a che faccia A quindi un segnale video questo è il caso italiano in cui viene utilizzata una modulazione cosiddetta negativa ossia il livello del massimo bianco corrisponde a un livello di segnale basso il 25% invece il nero corrisponde al 75% quindi il nostro segnale video con l'escursione di luminosità dal massimo bianco al nero si muove dentro questa fascia questo segnale video che riconosciamo qui in questa zona riproduce fedelmente il livello di luminosità dell'elemento iesimo che è scansionato poi sono sovrapposti diversi tipi di impulsi di sincronismo riconosciamo questi qua più alti che portano il segnale a livello del 100% come gli impulsi di sincronismo orizzontale poi abbiamo gli impulsi di sincronismo verticale che avvengono ogni n impulsi di sincronismo orizzontale infatti sappiamo che l'immagine è composta da un certo numero di righe e quindi quando si è arrivato alla fine del quadro avviene l'impulso di sincronismo verticale oltre che gli impulsi di equalizzazione per garantire un buon interlacciamento vediamo ora qualche numero famoso calcoliamo ad esempio la frequenza di riga che è la frequenza di ripetizione delle righe sia in acquisizione dal pennello ottico della camera da presa sia in riproduzione dal pennello ottico o GAN del televisore e la calcoliamo come N per FM dove M è il numero di righe e FM la frequenza di immagine nello standard italiano abbiamo 625 righe per 25 immagini al secondo otteniamo 15.625 Hz questa frequenza se vi ricordate è proprio quella alla quale facevamo funzionare il trasformatore di riga in qualche video in cui avevamo prodotto delle scariche con questo trasformatore che poi ha la caratteristica di avere alte tensioni per pilotare appunto il tubo catodico definiamo il periodo di riga come l'opposto della frequenza di riga quindi il suo inverso e otteniamo 64 microsecondi che è esattamente l'intervallo che intercorre tra due impulsi di sincronismo orizzontale successivi gli impulsi di sincronismo verticale avvengono a frequenza molto più bassa abbiamo detto che trasmettiamo nello standard italiano 25 immagini al secondo ma siccome il sistema è interlacciato abbiamo un quadro di righe pari e poi un quadro di righe dispari quindi la frequenza verticale è pari a 50 Hz è pratica comune in molti televisori partire da una frequenza di 31 e 250 Hz lo abbiamo visto anche nel video 723 del televisore Mivar Mvvblog questa frequenza infatti viene divisa per due per ottenere la frequenza di riga e viene divisa per il numero di righe N pari a 625 per ottenere la 50 Hz in questa maniera abbiamo il sincronismo perfetto fra la frequenza orizzontale e quella verticale il pennello elettronico che serve per analizzare l'immagine e anche per riprodurla è costituito da quello che si chiama un electronic gun che è un particolare tubo a vuoto quindi una valvola che ha un catodo in nickel dove vengono prodotti gli elettroni per effetto termoelettrico quindi con la temperatura vengono prodotti questi elettroni e poi questi elettroni vengono accelerati tramite dei potenziali applicati sia a diversi anodi e anche alla griglia appunto per controllarne l'intensità come in un sistema ottico anche in questo sistema elettronico è importante la direzione degli elettroni e per quanto possibile si deve cercare di creare un fascio che converge in un puntino il più piccolo possibile chiamato spot infatti la precisione di questa finestrella sarà quella che ci permette di avere una buona analisi della nostra immagine e anche una buona riproduzione il pennello elettronico dunque spazzola tutto lo schermo in lungo e in largo per muoverlo utilizzeremo due sistemi uno a deviazione cosiddetta elettrostatica e un altro a deviazione elettromagnetica in pratica il nostro cannone elettronico con il raggio di elettroni può essere deviato nella direzione orizzontale o verticale con l'uso di questi due sistemi nel sistema elettrostatico vengono utilizzate delle piastrine di una certa lunghezza quindi due coppie di piastrine una per la movimentazione orizzontale e un'altra disposta a 90 gradi per la movimentazione verticale se non c'è potenziale applicato a queste due piastre il raggio prosegue indisturbato rettilineo nel suo cammino viceversa applicando un potenziale avremo una deviazione che è proporzionale appunto all'intensità di questa tensione alla lunghezza delle piastrine e ad altri fattori geometrici nella deviazione elettromagnetica il principio è analogo è affidato a due bobine che in assenza di tensione non producono campo magnetico e quindi il raggio prosegue la sua corsa indisturbato viceversa con una tensione applicata si crea un campo magnetico e la deviazione di questo raggio sarà proporzionale all'intensità del campo magnetico e inversamente proporzionale al quadrato della tensione dianodica utilizzata dunque per muovere in maniera ordinata questo pennello elettronico si utilizzano dei segnali a dente di sega ad esempio vedete queste forme d'onda sono per la movimentazione orizzontale quindi abbiamo lo spostamento da sinistra a destra del pennello e ritorno fatto per tutte le righe contestualmente viene azionata anche la coppia di deviazione verticale quindi con una tensione che varia molto più lentamente di modo che il pennello si sposterà dall'alto dell'immagine fino al basso dell'immagine e poi ritorna questa è una scansione completa di due quadri interlacciati quindi righe dispari righe pari e il nostro cannone elettronico viene azionato da denti di sega per orizzontale e denti di sega per il verticale si capisce quindi l'importanza dei segnali di sincronismo e quindi impulsi orizzontali verticali ed equalizzazione costituiscono il cosiddetto supersincrono che garantisce la movimentazione perfettamente sincrona del pennello analizzatore rispetto a quello riproduttore oltre al sincronismo è assolutamente importante anche la linearità la costanza di guadagno di tutti gli stadi di amplificazione perché capite che se questi segnali poi non vengono generati bene quindi magari le rampe non sono lineari o abbiamo delle distorsioni anche l'immagine riprodotta avrà dei problemi per cui negli stadi amplificatori è molto importante che abbiano una banda il più possibile ampia piatta e che non introducano distorsioni specialmente di fase uno schema ideale che non ci darebbe problemi sarebbe quello classico ad accoppiamento diretto dove le valvole termoioniche utilizzate negli stadi di amplificazione tipicamente dei pentodi sono collegate tra loro appunto in maniera diretta quindi vedete che la tensione prelevata qua dalla nodica è portata direttamente in griglia uno stadio così fatto è sicuramente perfetto dal punto di vista di linearità e banda ma è molto complesso da fare specialmente perché impone dei vincoli molto pesanti sulle resistenze di griglia e di anodica tipicamente quindi gli stadi amplificatori sono accoppiati tra loro con il metodo resistenza capacità ossia abbiamo dei condensatori serie e resistenze calcolati in modo che appunto la distorsione di fase sia controllata infatti proprio perché all'interno di questi circuiti abbiamo molte componenti reattive il condensatore in serie cc altri condensatori parallelo altri condensatori parassiti sappiamo che un segnale che proviene in ingresso a questo stadio può subire in uscita uno sfasamento lo sfasamento lo vediamo qui abbiamo un'onda in ingresso nera e l'onda in uscita è rossa e vedete che è ritardata questo sfasamento misurata come differenza temporale dipende dalla frequenza del segnale in ingresso quindi se fosse costante per tutte le frequenze ci potrebbe andare anche bene sappiamo che c'è un po' di ritardo ma tutti i segnali indipendentemente dalla frequenza vengono ritardati dello stesso fattore purtroppo non è così perché quando cambia la frequenza la reattanza abbinata a questi elementi tipo condensatori cambia e quindi abbiamo che frequenze diverse vengono sfasate in modo diverso e questo provoca appunto distorsioni sulle immagini se prendiamo a considerazione il nostro segnale video significa che segnali che variano molto velocemente quindi dei bruschi cambiamenti bianco-nero nell'immagine quindi frequenza elevata possono avere un certo sfasamento segnali invece che magari variano lentamente quindi passaggi per esempio da zone nere e zone bianche molto ampie hanno un diverso sfasamento significa che se prendo la immagine sorgente e l'immagine che ho poi riprodotto avrò delle differenze fra queste che dipendono appunto dal tipo di immagine quando si collega un altro stadio amplificatore qui in cascata abbiamo che il condensatore cc e la resistenza di griglia rg della valvola che segue costituiscono un partitore resistivo che alle basse frequenze in particolare la reattanza di cc diventa molto elevata quindi questo punto qua viene a calare in pratica abbiamo un abbattimento del guadagno alle basse frequenze e sappiamo che le basse frequenze nel segnale video sono molto importanti nella gamma audio ci si ferma tipicamente a 20 hertz nel segnale video sono molto importanti le componenti fino a 5 hertz perché sono quelle che caratterizzano larghe zone di immagine bianco e nero quindi se il nostro amplificatore distorce e quindi cala il guadagno queste frequenze potremo avere delle distorsioni importanti sull'immagine per ovviare a questi problemi si interviene su rg ra e cc però abbiamo le mani un po' legate perché ad esempio il valore di rg non può essere selezionato a piacere ma dipende poi dal tubo che è stato selezionato agire su ra è a efficacia quindi ad esempio calando la resistenza di anodica riusciamo a compensare in qualche maniera questo abbattimento alle basse frequenze però poi impone dei vincoli sulla polarizzazione del circuito un altro modo per aumentare l'impedenza di placca alle basse frequenze è quella di sostituire la nostra resistenza ra questa qui con questo complesso creato da queste due resistenze r comp 2 e c comp succede quindi che il condensatore elettrolitico posto in parallelo a questa resistenza per le frequenze superiori a 100 hertz ha una reattanza bassa tale da cortocircuitare questa resistenza e quindi abbiamo il nostro comportamento voluto alle basse frequenze invece questo condensatore non si fa più sentire e a questo punto inseriamo questa resistenza in serie sul circuito di placca che ci permette di recuperare appunto il guadagno alle basse frequenze per operare la compensazione delle alte frequenze si può operare una compensazione in parallelo con ad esempio l'inserimento di questa bobina L0 chiamata bobina di peaking qua abbiamo uno stadio amplificatore tensione di ingresso la capacità parassita di uscita e poi uno stadio che segue questa bobina è fatta in modo che ha una frequenza di risonanza propria tramite la capacità parassita che si porta un po' al di sopra della massima frequenza da amplificare questo ci garantirà una piattezza di risposta e ci permetterà di lavorare con una resistenza di carico RA di questa valvola con valori ragionevoli infatti alle basse frequenze questa bobina diventa praticamente trascurabile viceversa le frequenze più alte interviene nel risonante in modo da compensare il guadagno in quella zona se la bobina L0 viene posta in serie al condensatore CC abbiamo la compensazione serie e in questo caso il guadagno del circuito è ancora superiore si può avere anche una versione mista quindi serie parallelo con due bobine e abbiamo ancora un ulteriore aumento di guadagno un'altra cosa da tenere presente quando si utilizzano amplificatori a resistenza e capacità è che perdiamo il valore continuo infatti avendo delle capacità in serie il valore continuo sparisce ma nell'immagine video il valore continuo ha un significato molto importante infatti immaginiamo questo segnale video rappresentato da una scena scura vedete qua ho livello di nero e qui ho livello di bianco questa è una scena scura perché mediamente sono appunto vicino al nero qua invece un segnale più luminoso sono vicino al bianco ognuna di queste righe perché poi sono righe che vengono scansionate se vi ricordate ha un valore medio che è appunto la media del segnale chiaro scuro questo segnale video transitando su degli amplificatori resistenza e capacità perde questo valore continuo quindi diventa un segnale a valore continuo nullo e rimane solo la componente alternata che è quella che ci dà la variazione di luminosità relativa fra i punti della linea ma il valore medio non c'è più questo significa che l'immagine originale che aveva un plafond di colore ben determinato immagine per immagine più o meno scuro questo tipo di informazione viene persa e quindi l'immagine risultante avrà la stessa valenza da un punto di vista relativo ma lo sfondo sarà sbagliato quindi se ad esempio avevo uno sfondo piuttosto grigio in questo caso non riesco più a distinguere immagine per immagine si può recuperare comunque sempre il valore di continua infatti si dimostra abbastanza bene che il valore di continua che è stato perso non è altro che il raddrizzamento della parte negativa quindi con un circuito chiamato DC restorer oppure recupero restitutore del valore continuo si può ritraslare il mio segnale video in modo da ridare lo sfondo corretto al segnale questo è uno schema esemplificativo di un circuito che opera questa operazione e abbiamo semplicemente l'utilizzo di un diodo quindi il segnale che ha perso la componente continua entra dentro questa rete tramite il diodo si rettifica la parte negativa e si restituisce il valore continuo al nostro segnale bene e con questo termina questo video sul segnale televisivo mi rendo conto che forse è stato un po' pesante perché è teorico ma di sicuro ne avremo bisogno nelle prossime puntate dove andremo a vedere dei segnali reali io vi ringrazio per aver visto questo video come sempre se vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao